Buongiorno a tutti eccoci per un altro appuntamento con le novità della settimana per il mondo della scuola con il vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo professore iniziamo dal contratto scuola e dagli incontri tra aran e sindacati previsti per questa settimana di cosa si discuterà allora gli incontri sono tre 24 25 26 gennaio e sapremo già nelle prossime ore l'esito del primo incontro ma bisogna già dire subito che comunque la vicenda è sostanzialmente avviata ma è ancora lontana da essere come dire risolta perché i nodi da affrontare sono davvero tanti c'è il problema per esempio ne cito uno il problema della della formazione quindi bisognerà capire la formazione in servizio come dovrà essere configurata e soprattutto come dovrà essere retribuita c'è il nodo assolutamente complicato difficile della mobilità che si intreccia anche con le modifiche che potrebbero essere apportate alla legge attraverso il decreto mille proroghe c'è l'altro problema altrettanto importante delle dei profili professionali del personale insomma ci sono parecchie questioni e poi c'è comunque da concludere l'aspetto anche economico perché stiamo ancora aspettando il l'atto di indirizzo il nuovo atto di indirizzo firmato dal ministro che dovrebbe davvero rendere pienamente disponibili per il tavolo contrattuale i famosi 300 milioni che la legge di bilancio del 2022 invece aveva stanziato per la valorizzazione della professionalità del personale docente quindi insomma i nodi sono più o meno sempre gli stessi e vedremo appunto nelle prossime ore che cosa succederà. Passiamo proprio al decreto mille proroghe che lei ha citato che novità ci sono? Allora sul mille proroghe in queste ore proprio probabilmente già oggi 24 gennaio dovremmo conoscere finalmente il testo definitivo degli emendamenti che sono stati presentati. In totale gli emendamenti sono 1300. Si dice che quelli segnalati cioè quelli che concretamente potranno arrivare alla discussione della commissione di merito che è la prima commissione che sta lavorando insieme con la quinta potrebbero essere non più di 300. Questo non vuol dire che questi 300 emendamenti saranno approvati tutti anzi tutt'altro ne sarà approvata soltanto una minima parte. Gli emendamenti in discussione sono quello appunto sulla questione della mobilità quindi la che dire almeno l'allentamento diciamo dei vincoli alla mobilità poi c'è un altro emendamento per rivedere alcune questioni legate al concorso straordinario BIS che però dovrebbero sistemare come dire i problemi di non più di 5, 600, 700 insegnanti al massimo quindi è una cosa certamente importante per quelle centinaia di docenti ma non è una questione di molto molto diffusa. E poi infine c'è questo emendamento che sta creando molte polemiche sul tema del concorso per dirigenti scolastici del 2017 che come sappiamo è stato molto travagliato, è intervenuta anche la magistratura, ricorsi al TAR e così via. I 5 Stelle accusano la maggioranza di voler fare un emendamento per fare una sanatoria per immettere in ruolo tutti quanti. La Lega proprio in queste ore ha risposto dicendo no non è assolutamente così, noi vogliamo semplicemente dare una opportunità a coloro che non erano riusciti ad arrivare alla prova scritta e che appunto in modo ingiustificato erano stati bocciati e quindi per costoro in realtà ci saranno comunque delle prove che dovranno essere superate. Quindi la questione è abbastanza complicata, non sappiamo neanche per la verità se questo emendamento verrà approvato e se appunto passerà all'esame delle commissioni. Professore ci sono altri eventi importanti per il mondo della scuola sempre questa settimana? Beh oggi 24 di gennaio per esempio è la giornata internazionale dell'educazione come da decisione presa già qualche anno fa dall'ONU. È una giornata particolarmente importante a questo tema noi abbiamo dedicato un ampio servizio proprio nel nostro sito quindi se volete saperne di più potete leggere questo bell'articolo che abbiamo pubblicato in queste ore. Professore si sta parlando anche di un incontro tra il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara e altri ministri, di cosa si tratta? Si sta parlando di un incontro fra il ministro Valditara e il ministro del lavoro in cui discuteranno a quanto abbiamo saputo della sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche della sicurezza dei percorsi di alternanza scuola lavoro, i cosiddetti PCTO. Collegato a questo ci dovrebbe essere anche un incontro fra il ministro dell'istruzione Valditara e il ministro dell'economia e finanze perché a quanto pare il ministro Valditara vuole discutere con il ministro dell'economia che è quello che tiene un po' i cordoni della borsa per capire in che modo dove prendere le risorse in modo innovativo per trovare soldi appunto per il mondo della scuola, per il sistema di istruzione. Ne sapremo qualcosa di più certamente nei prossimi giorni, quindi vi invitiamo a seguirci e a leggere il nostro portale. Parliamo invece di ricorrenze perché questa settimana c'è una importantissima anche per il mondo della scuola che è la giornata della memoria. Certo, il 27 di gennaio è come da molti anni ormai la giornata dedicata alla memoria. Come sappiamo ricordiamo in questa giornata gli avvenimenti tragici, drammatici legati appunto alla Shoah, quindi alla morte di milioni anzi di ebrei e non solo di ebrei e quindi è una giornata molto importante che va usata bene nella scuola in modo da ricordare, da riportare alla memoria di tutti questi avvenimenti assolutamente drammatici e sconvolgenti. Non soltanto per ricordarlo il 27 gennaio ma per fare in modo che da questo ricordo nascano anche dei percorsi didattici, dei percorsi culturali, pedagogici che servano appunto a non farci dimenticare quello che è accaduto soprattutto per evitare che drammi di questo genere continuino ad accadere anche in futuro. Grazie, grazie per queste risposte. Ringraziamo il professor Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica della scuola e un saluto a tutti, alla prossima. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.